Ciao Pino, ho 39 anni e non riesco ad ascoltare altro che Paolo Meneguzzi. Tu pensi ci sia la differenza tra lui e Jim Morrison? Un bacio, Nando. Ma che cazzo stai dicendo, Nando? Paolo Meneguzzi, ma la fanfula per Paolo Meneguzzi, vai, vai Jack. Caro Pino, secondo me tu sei l'azione moderna. Paolo Meneguzzi, ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paolo Meneguzzi, ma che cazzo ti sei fumato? Ce l'hai intornato? Vai Jack. Minch, ragazzi. Ciao.